Il Clima Camp 2023 si sposta per una giornata di protesta da Ostuni a Brindisi per due sit-in contro le guerre a difesa dell'ambiente. Il primo presso la sede del Castello di Terra del Comando della Marina Militare ed il secondo presso Palazzo di Città. Due temi strettamente collegati a livello mondiale e globale, come spiegano gli organizzatori, ma che toccano il territorio pugliese e Brindisino, da sempre al centro della produzione energetica nazionale, ma anche di polemica, un'occasione anche per toccare il tema delle ultime giornate con la decisione dell'amministrazione comunale di annullare il ricorso al TAR contro l'installazione di un deposito GNL di Edison nel porto Brindisino. Non è possibile assolutamente far pagare, continuare a far pagare alle popolazioni il peso di scelte strategiche che, ripeto, hanno un effetto devastante non soltanto sulla popolazione di Brindisi. Continuare a privilegiare il fossile, privilegiare il carbone, privilegiare il gasolio, privilegiare il gas naturale liquido significa ulteriormente produrre, favorire la moltiplicazione di conflitti internazionali. Non riguarda soltanto l'Ucraina, riguarda quello che accade in Medio Oriente, riguarda quello che sta accadendo purtroppo nel continente africano. La storia dell'ultimo secolo è una storia che dimostra esattamente come le guerre si facciano per controllare le fonti energetiche, il petrolio eccetera, e come le fonti energetiche fossili siano degeneratrici rispetto alla questione dell'ambiente, che hanno un enorme impatto ambientale e soprattutto come siano anche riproduttrici di sistemi di guerra.